Allora, questa opera è importantissima per il Valdarno, ma soprattutto per Firenze. Oggi si apre il cantiere, finalmente, dopo varie vicissitudini. Aspettavamo da molti anni questo giorno, ma io già immagino quando nel 2016 ricorreranno i 50 anni da quella tremenda alluvione di Firenze e inviteremo tutti gli angeli del fango di allora, avremo visto già le prime due casse di esondazione terminate. Metà del lavoro da completare nell'anno successivo, perché questo obiettivo è fondamentale per dare una risposta definitiva alla capacità di prevenire disastri ambientali come quelli che abbiamo vissuto sotto gli occhi di tutto il mondo nel 1966. Ci aspettiamo un impegno ulteriore del Governo, che però già grazie al decreto Sblocca Italia ci ha consentito di partire concretamente con la prima cassa di esondazione, la seconda arriverà entro il 2016 e poi le due successive per arrivare a questa capacità di contenimento dei 40 milioni di metri cubi, che è l'obiettivo correlato all'esondazione dell'alluvione del 1966. Noi siamo in campo, l'alleanza, il rapporto tra Regione e Governo è fondamentale per portare a compimento questa opera infrastrutturale che serve non solo, ricordiamolo, alla città di Firenze, ma a tutte le aree urbane che si sono costituite e sono cresciute lungo il fiume e lungo l'Arno. Vorrei anche ricordare che abbiamo già completato il collettore di riva sinistra con un intervento di 70 milioni di euro, che abbiamo tra l'altro inaugurato proprio con il Presidente del Consiglio Renzi, l'intervento che già ha consentito di ripulire il fiume, quindi alleggerire la presenza di detriti e quindi migliorare le condizioni del letto del fiume. Insomma, si tratta di completare un lavoro di grandissima portata ma che ci serve a evitare disastri che abbiamo visto e che non vogliamo mai più vedere.